Ciao a tutti, come prendere coscienza delle proprie emozioni? In questo video voglio spiegarti come puoi prendere coscienza delle tue emozioni, come puoi sviluppare l'autocoscienza, l'autoconsapevolezza delle tue emozioni. Prima di affrontare il tema, però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento base, abbonamenti base per partecipare alle live e per dare un sostegno diciamo al canale e l'abbonamento seminario online per partecipare al seminario online che faccio mensilmente. E adesso veniamo al tema, come prendere coscienza delle tue emozioni? Allora, diciamo subito che prendere coscienza delle proprie emozioni è una delle cose più importanti che noi possiamo fare nella nostra vita, se non impariamo a prendere coscienza delle nostre emozioni non avremo proprio nessuna possibilità di vivere bene, non avremo proprio nessuna possibilità di essere felici perché quando hai consapevolezza di te stesso, quando sei consapevole delle tue emozioni, inizi a prendere anche, come dire, a governare la tua vita e non lasciare che siano le tue emozioni a governarla. Questo è molto importante. Devi diventare consapevole se vuoi essere felice. La consapevolezza è la cosa fondamentale. Quando sei consapevole delle tue emozioni, sarai in grado di capire, diciamo, chi ti genera emotività, chi ti produce, diciamo, delle sensazioni negative. Questo è fondamentale. Se non sei consapevole di te stesso o delle tue emozioni di te stessa, non sei neanche consapevole di chi le scatena, di chi scatena la tua rabbia, di chi scatena l'attaccamento, perché dobbiamo imparare a liberarci di queste emozioni negative. Quando decidi di sviluppare l'intelligenza emotiva, dovrai comunque apportare cambiamenti nella vita quotidiana. Dovrai cercare di migliorare, ovviamente, la tua vita. Dovrai cercare di dare un vantaggio alla tua vita. Ci sono molte caratteristiche, diciamo, di cui non siamo consapevoli, molte caratteristiche di noi stessi, perché non siamo consapevoli delle nostre emozioni. Il modo, diciamo, in cui ci sentiamo, di fatto dice alla gente molto più di noi di quanto immaginiamo. Se noi modifichiamo noi stessi, automaticamente modifichiamo il modo di comunicare, automaticamente riusciamo a trasmettere molto di più, riusciamo a coinvolgere molto di più e riusciamo anche a gestire meglio le relazioni personali. Non c'è paragone tra una persona che non ha una consapevolezza e una persona che ha una consapevolezza gestire le relazioni. E veramente cambia il giorno e la notte. Anche la motivazione. La motivazione, con l'autoconsapevolezza, riusciamo a pilotarla. Cioè, la motivazione è un motivo all'azione. Quindi servono motivati a fare le cose. Ma si sviluppano un sacco di attitudini positivi. Ad esempio, imparare dei propri errori. Soltanto chi ha un'autoconsapevolezza riesce a imparare dei propri errori. Gli altri vedono gli errori come un fallimento, vedono gli errori come un limite. Invece, sono semplicemente un'informazione. Allora, come possiamo comprendere le nostre emozioni? Come possiamo sviluppare questa forma di consapevolezza in noi stessi? Beh, intanto una cosa fondamentale è fare anche un'analisi, tra virgolette, logica. Cioè, tenere un diario di quello che ci capita, provare a uscire fuori dal zona di comfort, a darsi qualche emozione, a fare qualcosa che normalmente non faremmo. Questo è molto importante per riuscire a raggiungere dei risultati positivi. La zona di comfort è sicuramente una zona piacevole, ma costituisce anche una gabbia, costituisce anche un limite, costituisce anche un blocco, dentro il quale poi è difficile uscire fuori, dal quale poi è veramente difficile, veramente duro uscire fuori. Invece, noi dobbiamo imparare a uscire fuori della nostra zona di comfort. È qualcosa di molto importante. Un altro modo per rafforzare la consapevolezza in sé è prevedere le emozioni in determinate situazioni. Cioè, ad esempio, vedere come reagirai, cercare di sentirlo. Ecco, è una presa di confidenza. Vedere che alcune situazioni, scoprire che alcune situazioni ti generano emozioni piuttosto che altre, è una presa di consapevolezza fantastica, perché ti fa capire veramente quali sono i meccanismi che generano le emozioni. Puoi farlo anche in modo virtuale, diciamo, immaginandoti delle situazioni e vedendo che tipo di emozioni vengono fuori da queste situazioni. Quindi anche farlo in modo virtuale è una cosa molto, molto importante. Vedere anche il tipo di ruolo. quando siamo in qualche ruolo che cosa succede piuttosto che essere, diciamo, imberigliati in qualche altra situazione. Tutti noi abbiamo dei fattori scatenanti. Quindi questi fattori scatenanti si chiamano trigger, interruttori. Quindi capire quali sono i trigger, che cos'è che mi scatena la rabbia, cos'è che mi scatena l'attaccamento, cos'è che mi scatena... anche la cosa positiva, anche la gioia. Rendersi conto delle immagini mentali che agiscono nella nostra testa e che ci condizionano. Oppure sarà un'immagine mentale, sarà una parola che ci diciamo, sarà una sensazione che proviamo. Ecco, a livello sensoriale, che cos'è che ti genera, diciamo, emotività? Fare un'analisi, rendersi conto di questo, tenere un diario, scrivere esattamente le cose che capitano, è il modo migliore, più proficuo per capire quali sono le nostre emozioni e sviluppare quello che si chiama autoconsapevolezza. Quest'autoconsapevolezza, come dicevo, trasformerà profondamente il nostro modo di essere, trasformerà profondamente il nostro modo di vivere il mondo e ci darà dei benefici fantastici che neanche la nostra più fervi di immaginazione può farci cogliere quanti benefici ci darà. Quindi è una strada che vale la pena di percorrere è un sentiero che vale la pena di percorrere ma sta a te percorrerlo, sta a te impegnarsi a, diciamo, a raggiungere i traguardi che vuoi raggiungere. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tervasco, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale e partecipare alle live e l'abbonamento seminari online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!